Bitcoin sfiora i 50.000 dollari e ovviamente si sprecano i commenti sulla criptosfera. Vi sono tantissimi rumors di mercato che citano l'inizio di una nuova bolla in merito ovviamente alla regina delle criptovalute. Andiamo per gradi e proviamo a fare un'analisi della price action ed anche al tempo stesso delle notizie che ovviamente si stanno susseguendo in questi ultimi giorni. Innanzitutto abbiamo a che fare con la più grande ed estesa candela giapponese con time frame weekly nella storia del Bitcoin. Ovviamente questa estensione così ampia si verifica proprio a ridosso della soglia psicologica dei 50.000 dollari. Siamo sui massimi di mercato storici assoluti anche per quanto concerne gli indici azionari nelle principali borse occidentali. È inutile negarlo, vi sono numerosi segnali che fanno presagire come qualcosa di particolarmente spiacevole potrebbe verificarsi nelle prossime settimane barra mesi, ovviamente richiamando all'analisi tecnica ed anche fondamentale tradizionale. Si sprecano gli endorsement adesso su Bitcoin per quanto concerne il suo andamento, i massimi storici nuovi che sono dietro l'angolo secondo numerosi commentatori della criptosfera ed anche attori di prestigio. Recentemente abbiamo avuto anche l'endorsement di due player istituzionali del risparmio gestito convenzionale, rispettivamente Bank of New York, Mellon e anche Morgan Stanley che hanno affermato come sono pronti a dare supporto istituzionale agli investimenti in digital asset ed anche a gestire i pagamenti per il corso del 2021. Quindi abbiamo un insieme di aspettative che sono veramente molto rose con un'intonazione che continua a rimanere decisamente bullish, decisamente a rialzista. È proprio su questo versante che vengono richiamati anche i rischi che in questo momento sussistono sul mercato. In prima battuta abbiamo un ricorso sfrenato all'utilizzo della leva, cioè se torniamo indietro ad analizzare precedenti bolle di prezzo che si sono verificate su Bitcoin scopriamo che mancava all'epoca o all'epoca precedente l'utilizzo e il ricorso alla leva finanziaria e aggiungiamoci anche la presenza degli strumenti derivati. Vi sono, il ricorso alla leva ricordiamocelo è molto problematico perché tante posizioni poi possono essere chiuse d'ufficio come si suol dire per margin call nel momento in cui si dovesse assistere a oscillazioni di prezzo e di quotazioni improvvise che ovviamente chiamano l'intermediario finanziario, l'exchange alla chiusura anticipata rispetto ai livelli di take profit o di stop loss che erano stati precedentemente settati. Vi è nuovamente il richiamo a quello che è stata la famosa tulipanomania con l'attuale fase di espansione dei prezzi su Bitcoin. Ora chi ha vissuto e ha seguito con tutta la price action che si è verificata più di tre anni fa tra la fine del 2017 e il 2018 si ricorderà perfettamente di quelle che erano le dinamiche che caratterizzavano il mercato in quell'epoca e anche in quel periodo si citava appunto la bolla dei tulipani proprio perché le persone che accorrevano letteralmente in massa ad acquistare Bitcoin erano prese dalla euforia senza rendersi conto di che cosa stavano acquistando e per quale motivo soprattutto lo acquistavano. Ebbene a distanza di appunto tre anni ci ritroviamo con delle condizioni di mercato che possono assomigliare ma tutto sommato mantengono delle caratteristiche distintive ovviamente richiamando in questo caso alla presenza degli istituzionali a un cambio di genetica in corso di tutta la crypto economy e anche a riconoscimento di fatto che ormai Bitcoin è una commodity finanziaria che ha un principale funzione ossia quella di store value quindi capacità di mantenere e magazzinare valore nel tempo soprattutto per difesa da inflazione. Ebbene se ritorniamo a studiare la tulipanomania andremo a comprendere come nel momento di massimo acme di espansione e formazione quella a bolla che oltretutto è stata anche citata numerose volte all'interno anche di film piuttosto famosi che parlano di insider trading di investimenti di borsa e così via a discorrendo potremmo conoscere come circa mezzo chilo 500 grammi di bulbi di tulipani arrivarono a costare come 4 annualità come 4 anni di salario di un professionista ben pagato ovviamente stiamo parlando di oltre 4 secoli fa. Ebbene se adesso andiamo a fare un'analisi in tal merito con un Bitcoin a 50.000 dollari non è che possiamo dire che abbiamo lo stesso tipo di relazione però se prendiamo il salario di un bracciante privo di specializzazione quindi un manovale non è che poi sia così tanto diverso perché si tratterebbe di 4-5 annualità di salario l'unico aspetto che è diverso rispetto al 2017 è che viene trasversalmente riconosciuto una finalità un utilizzo, uno scopo in questo momento per Bitcoin e anche alcune criptovalute che sono ovviamente cresciute in scia con la salita della regina delle criptovalute ebbene io adesso non voglio influenzarvi però mi sono fatto un'idea soprattutto anche avendo vissuto in prima battuta il 2017 e soprattutto poi entrato nel 2018 durante il Crypto Winter richiamando poi quelle che sono state tutte le successive metriche di analisi e anche le recenti esternazioni ed endorsement da parte di players istituzionali della criptosfera che danno ad esempio ancora nuovi massimi storici attesi per i prossimi mesi nonostante la recente price action richiamando a 65.000 dollari già nel breve termine e addirittura i 100.000 o oltre per la fine del 2021 lo ricordo sempre sono previsioni che fanno operatori istituzionali della criptosfera e a fronte di queste proclami potrebbero perfettamente avere dei conflitti di interesse o meglio ancora degli interessi non evidenti nel pubblicizzare in questo modo le quotazioni ognuno pertanto deve fare la propria analisi e concepire la propria propensione a rischio e capire e comprendere se è il momento per lui di entrare o eventualmente di uscire nel caso in cui abbia costruito delle posizioni rialziste direzionali su Bitcoin and Company e valuti appunto l'idea di smobilizzare la posizione in tal senso è opportuno anche non dimenticare mai che la volatilità che potrebbe improvvisamente esplodere sul mercato non consentirebbe poi di andare con facilità a chiudere le operazioni per quale motivo? per il crash che subiranno gli exchange vale a dire, l'abbiamo già visto anche recentemente è un aspetto che ormai caratterizza largamente tutta l'industria della criptosfera quando molti istituzionali, quando molti operatori, quando molti trader, quando molti retail vogliono vendere tutti allo stesso modo o comprare tutti allo stesso modo i server degli exchange non sono in grado di gestire questo flusso di ordini che viene a imbottigliarsi in pochissimo tempo non è casuale in ogni caso anche ricordare come sta skyrocketing letteralmente salendo vertici solamente anche l'onerosità di spostare frazioni di Bitcoin ed anche di Ethereum e questo deve cominciare a suggerire l'idea che chi vuole mantenere nel medio e lungo termine posizione su Bitcoin non è il caso che vada a frantumarle, a frazionarle in piccole quantitativi ma li vada a concentrare in pochi wallet proprio perché l'onerosità poi nell'andare a spostare queste frazioni eventualmente o decimi di Bitcoin potrebbe avere un impatto decisamente significativo è molto plausibile che se continuerà il trend attuale potremmo arrivare a sostenere tranquillamente onere di commissione, di transazione average transaction fee per spostare frazioni di Bitcoin tranquillamente superiori ai 100 dollari in questo momento mentre parlo a seconda dell'exchange che utilizzate andate da una media dai 30 ai 40 dollari vi lascio come sempre in nota informativa della clip link esterno di approfondimento tematico per comprendere quali sono e conoscere quelle che sono in questo momento le più plausibili aspettative in merito alla price action attuale e anche a conoscere quelli che sono altri punti di vista se in questo momento siamo in new bubble o in una nuova mass adoption e anche a conoscere che sono i nostri amici